L'Eco dopo 50 anni è in serie B Marco Valsecchi Tu hai un pub in città 3 spine lì sotto Qua nei distinti Poi abbiamo 6 in curva nord Ci vengo a dire 6 spine di qualità E due in curva sud che potrebbero diventare di più con l'amplimento del settore Speriamo di fare davvero un bel pub anche in curva sud per gli ospiti Ma esiste uno stadio in Italia che ha la Guinness? Non lo so, mi dicevano che forse a Cesena c'era ma non so se c'è ancora Ha il bar anche degli ospiti? Sì sì, gli diamo solo la Harv Lager Che è una buona birra chiaro Grazie a quest'uomo sicuramente lo stadio dell'Eco O a birre da Serie A, direi da Champions League Da Scottish Premier League Ma è il tifoso lecchese? Il tifoso lecchese è il numero 1 Sono il tifoso lecchese, sempre sul pezzo Noi siamo da cazzo, ecco Un altro rigore Due rigori sbagliati e è finita la partita Invece quindi non era facile sbagliare due rigori No, però ci siamo riusciti Ecco, la prestazione è stata buona Che ne sono andate? Io sono andate Almeno bevono bene lecchese Avrei preferito fare due o tre birre in meno E fare un paio di più di più E quindi per il Lecco non è andata benissimo oggi Spero che non mi dicano che porto sfiga Però che bello il calcio di provincia Che bello questo stadio E che birre buone E che bevono lecchese allo stadio Non sono per me